Arrestate questa mattina due persone, tra cui un ricercato per spazzoli stupefacenti dai carabinieri di Civitanova Marche Macerata che hanno sequestrato 207 grammi di cocaina, una pistola con matricola brasa e munizioni. In manette è finito un 28enne tunisino, residente a Porto Sant'Ilpidio. Ha tentato di fuggire da una porta finestra di un appartamento nel centro città, ma è stato bloccato dopo una breve colluttazione, durante la quale uno dei militari intervenuti ha riportato leggere scoriazioni al volto e contusioni ad una spalla. L'uomo aveva con sé uno zainetto contenente una pistola beretta calibro 9 con matricola brasa, due caricatori, 23 colpi e due documenti di identità francesi falsificati. Nei guai anche la sua compagna, una ballerina romena di 32 anni. In casa è stato trovato un barattolo di riso contenente due involucri con 207 grammi di cocaina. Oltre al decreto di fermo, il 28enne è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di arma clandestina, uso di atti falsi validi per l'espatrio e detenzione di stupefacenti. Lei per detenzione di stupefacenti in concorso. I due si trovano ora nel carcere di Ancona e in quello di Pesaro.